amici del centro meteo italiano l'anticiclone padrone dello scenario meteo generale il quale ci ha assicurato condizioni di tempo stabile e soleggiato negli ultimi giorni a sta parte eccetto qualche locale disturbo tra la sicilia e la calabria lascia spazio ad una nuova fase di maltempo durante questa settimana ad iniziare dalle regioni settentrionali italiane nel frattempo godiamoci le ultime ore di tempo stabile e soleggiato nonché dal clima mite specie durante le ore centrale della giornata con punte ben oltre i 20 gradi sulle pianure del nord e su quelle della toscana e del lazio secondo il nostro modello di calcolo l'indebolimento del vasto campo di alta pressione dalla giornata di lunedì 20 marzo favorisce l'inserimento del flusso instabile di matrice atlantica nel bacino del mediterraneo occidentale come conseguenza una serie di basse pressioni saranno in transito sulle nostre latitudini la prima meno intensa nella giornata di martedì 21 la quale genera delle piogge locali temporali solo sulla sicilia successivamente una saccatura di bassa pressione in allungamento dall'oceano atlantico fino al bacino del mediterraneo occidentale causerà un intenso peggioramento specie sulle regioni nord occidentali italiane durante la seconda parte della settimana piogge di forte intensità sulle piemonte valle d'aosta e ligure con nevicate abbondanti sulle alpi occidentali a quote medio alte specialmente nella giornata di giovedì e di venerdì 24 marzo il tutto accompagnato da valori di temperatura piuttosto miti a causa del flusso meridionale dal nord africa questa l'evoluzione meteo del modello a nostra disposizione vi invitiamo tuttavia a seguirci nei prossimi aggiornamenti un saluto dal centro meteo italiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti